Il ciclismo italiano piange la scomparsa di Loretto Petrucci, 87 anni, uno degli atleti più forti del dopoguerra. Petrucci era nato a capostrada ed era malato da tempo. Da dilettante partecipò con la squadra italiana ai giochi olimpici di Londra nel 1948. Professionista dal 1949 al 1968, esordì con la legnano di Gino Bartali e divenne in seguito un gregario di Fausto Coppia alla Bianchi. Non gli fu però molto fedele. Nel 1952 vinse la Milano Sanremo ed entrò in competizione con il campionissimo, pretendendo di essere trattato come suo pari all'interno della squadra e non da semplice gregario. Proprio per questa rivalità e per alcuni suoi atti di insubordinazione dovette lasciare la Bianchi a fine stagione. In seguito corse per tre anni con la Ligier. Nel 1953, sua stagione migliore, si confermò la Milano Sanremo, conquistò la Parigi-Bruxelles e si aggiudicò il Challenge des Gran Colombo, una speciale classifica a punti che teneva conto dei piazzamenti dei ciclisti in varie gare. Nel 1955 ottenne la sua ultima vittoria di rilievo, il Giro del Lazio. Attaccata la bicicletta al chiodo, Petrucci diventò un grande organizzatore di eventi sportivi come la Firenze-Pistoia. Il funerale si terrà sabato alle ore 15 nelle cappelle dell'ospedale Saiacopo di Pistoia. La salma sarà tumulata nel cimitero della Misericordia.